buongiorno a tutti e guardate in diretta arrivano queste immagini da roma e l'immagine di tutti quegli italiani che in queste settimane difficili stanno dando una mano un aiuto per il popolo ucraino loro sono dei volontari delle acli che stanno in questo momento distribuendo portando in un albergo dove si trovano dei bambini che arrivano dall'ucraina che stanno portando dei giocattoli è un segno oggi vogliamo stare accanto a loro accanto a tutti quelli che ci sono e danno sicurezza in questo momento di stiamo in diretta con rossella santilli proprio tra i volontari delle acli ora buongiorno rossella raccontaci questa mano tesa sì buongiorno rosario buongiorno ai nostri telespettatori volontari delle acri noi avevamo lasciati qualche mese fa quando si prendevano cura di tante famiglie romane che avevano problemi del post pandemia li ritroviamo adesso invece al fianco di 92 ucraine che sono ospitate in questo grande albergo romano a tormarancia di cui non faremo né nome né niente per motivi di sicurezza ed eccoli qua 42 bambini ci sono giulia di gregorio responsabile del welfare e della solidarietà dell'acri siete sempre in movimento sì perché anche le emergenze non finiscono mai purtroppo questa emergenza ucraina però tocca ancora di più se se dio vuole il vostro cuore e il cuore di chi vi dà poi una mano assolutamente sì perché sono coinvolte donne e bambini quindi comunque delle persone molto fragili che stanno vivendo una cosa terribile quante ore al giorno state lavorando per questo gruppo questa piccola comunità ucraina che si è creata qui non le stiamo più contando quando c'è bisogno noi siamo qua siamo qui tutti i giorni tutte le mattine per ascoltare le loro richieste sono 80 persone di cui 52 bambini e grazie grazie giulia il più piccolo a quattro mesi è nato il 25 dicembre il più grande c'ha 17 anni una comunità che ormai è un mese che vive qui lì di aborsì presidente delle acri di roma lei e i suoi angeli sempre al lavoro con il cuore la cosa che state organizzando non ultima quella di ieri ad andare dal parrucchiere ma guarda noi abbiamo risposto a questa chiamata del municipio otto del presidente ciaccheri dell'assessora luigi e siamo qui diamo tante risposte tante domande hanno hanno bisogno di aiuto ma ci sono tante domande che loro fanno con gli occhi con quegli occhi velati di lacrime e allora ieri pomeriggio abbiamo regalato una coccola siamo andati da sor novella al ciofs e hanno avuto trucco e parrucco e altri volontari da tanti altri volontari e giovani studenti che si stanno formando come parrucchiere ed estetisti una grande grande gara di solidarietà un'esperienza di sussidiarietà bellissima presidente grazie e allora conosciamole un po più da vicino queste donne che hanno lasciato tutto alle spalle. Oksana, Oksana lei viene da? Io sono da Ucraina, da Cernovce. Oksana ha sei figli, infatti il presidente Zeliecki le ha dato questa medaglia come mamma eroina è scappata con sei figli dalla guerra, adesso come sta vivendo? Sentiamo la traduttrice. Allora, dico io subito perché abbiamo già parlato prima, lei adesso è molto contenta perché ha trovato tantissima brava gente qui e sono stati accolti benissimo però sta sempre in ansia, in pensiero per il figlio che è rimasto a casa che ha 24 anni che sta combattendo nell'esercito per cui è un po' in pensiero invece qui si trovano molto bene, infatti ieri abbiamo fatto ai capelli e poi stanno facendo dei corsi d'italiano stanno facendo dei corsi d'italiano, lei li frequenta ed è molto brava vorrei dire che ha imparato subito Allora, ci dicono la parola rivolgendosi ai romani Io ho molto piacere questa città e il popolo, sì, grazie per tutti La sera quando va a dormire si sente un po' più tranquilla? Poco tranquilla però molto preoccupata Se c'è ancora un minimo di una decina allora, nel prossimo collegamento vi faremo conoscere una collega una collega giornalista ucraina che fa la TGR proprio in quel paese la linea torna a te Dignità delle persone difesa dai volontari anche delle ACLI con cui ci andiamo a collegare subito loro sono in mezzo agli ucraini arrivati a Roma C'è Rossella Santilli con loro, buongiorno ancora Sì Rosario, sono qui da quasi un mese una piccola comunità di donne e bambini una novantina di persone vi avevo promesso una conoscenza particolare consentiteci, una collega ucraina di Kiev Allora, Irina, dove lavorava lei? Io lavoro TV in Ucraina, giornalista Adesso lei sta tentando di fare il suo lavoro il suo mestiere che ama anche da Roma informando la TV di Stato a Kiev proprio di quello che sta succedendo qui Lei dice che sta informando tutti i giorni i suoi spettatori perché tutti i giorni sta facendo delle riprese sta scrivendo degli articoli dove racconta come è stata accolta che cosa vivono qua Lei dice che oggi sono 50 persone e quindi racconta a tutti quanti come vivono le loro giornate e tutto quanto viene trasmesso nella televisione dove lavorava prima Irina Il nostro augurio è quello che lei torni prestissimo dalla sua televisione fare il suo lavoro in una città ricostruita una città libera Allora, per chiudere Presidente Lidia Borzì delle Acre di Roma in cantiere altre iniziative come le borse di studio per gli studenti ucraini Sì, una grande gara di solidarietà dalla nonna che ci ha detto che vuole venire a insegnare l'uncinetto al rettore dell'università Unica Millus che ha offerto 20 borse di studio convitte alloggio per ragazzi ucraini fuggiti medicina sia chi ha dovuto interrompere gli studi sia chi li vuole intraprendere Quindi l'appello è Cerchiamo Chi conosce dei giovani ucraini che hanno dovuto interrompere gli studi di medicina gli studi di odontoiatria o di scienze infermeristiche ce lo faccia sapere contatti le Acre di Roma che cerchiamo di dargli una speranza e un futuro Grazie Presidente Lidia Borzì delle Acre E allora Il cuore dei romani si vede e si deve ancora vedere La linea a te Rosario